Aprire il portone di casa e per due volte in due giorni consecutivi imbattersi davanti a cinque lupi che ti fissano minacciosamente mostrando i loro denti. Questo è quanto vissuto in poche ore tra lunedì pomeriggio e questa mattina da una donna residente a Cattabrighe ad un chilometro dal quartiere di Vismara. Un episodio simile che si ripete dopo quello avvenuto appena una settimana fa a Granarola di Gradara dove sempre una donna proprietaria di un'azienda agricola era stata avvicinata da un branco di otto lupi dai quali era riuscita a difendersi con un badile. E fortunatamente proprio come in quella vicenda la donna cerchiata nella sua abitazione di Cattabrighe è rimasta illesa ma a rimanere impresse nella sua mente non sono le ferite che avrebbe potuto riportare ma la paura ora di uscire di casa non sentendosi al sicuro. Naturalmente il lupo caccia per mangiare ed essendo un predatore a volte può avvicinarsi in aree antropizzate alla ricerca di cibo ed è quello che ha trovato in questa gita fuori porta avvenuta ieri pomeriggio attorno alle 14.10 e questa mattina alle 7.30. Eppure la donna che vive assieme al marito e ai due figli non possiede un allevamento ma solamente animali di compagnia che lascia liberi in giardino in quel luogo dal quale non trova più uno dei suoi gatti sparito in queste ore. Sparizione di animali che è stato vissuto nell'analogo modo dalla famiglia Mancini di Granarola che dopo l'assalto di otto lupi non ha più ritrovato nelle loro gabbie diversi polli. Ma se quella è una zona di campagna vicino ad un'area boschiva l'episodio di cattabrighe è avvenuto in pieno centro abitato tra il traffico delle macchine, case e famiglie. Ed è proprio per la sicurezza delle famiglie che l'OIPA, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, ha stilato un vademecum utile per chi abita in zone in cui può essere presente il lupo che come viene da loro ricordato è una specie protetta dalla normativa nazionale e dell'UE e quindi non può essere né cacciato né ucciso. Evitare di lasciare resti di animali accanto alle case, tenere di notte gli animali domestici in luogo al chiuso, non lasciare rifiuti organici nelle letamaie e nelle vicinanze delle stalle. Questi sono solo alcuni dei punti sottolineati per evitare di attirare i lupi verso la propria abitazione, ma nel caso in cui si dovesse verificare un incontro visivo con il mammifero, occorre parlare ad alta voce e agitare le braccia per allontanarlo e se il lupo è lontano, restare in silenzio e non interferire e nel caso non bisogna seguire le sue tracce. Ma nonostante le linee guida da rispettare, gli abitanti chiedono una rapida presa di posizione da parte delle istituzioni per iniziare una gestione mirata e diversa di questa specie.